Parla di casa 2 Questo sembra promettente Parla delle famiglie Delle famiglie e delle suore dell'abbazia di Kersan Bene Di Kersau Scopriamo che qualche suore è imparentata con Suore illuminata Andiamo a vedere il suore illuminata subito Questo dovrebbe essere interessante Suore illuminata Si chiama Angeline Su un vero nome è Angeline quindi Viene dalla famiglia Capocci di Perugia Siamo che avessero dei legami con Kersau Attraverso un vecchio abate, Rudolf E la sua famiglia dona del denaro all'abbazia ogni anno addirittura Andiamo in ordine Prima che madre Katarin sia stata la prima a trascrivere i dati No, sembra che madre Katarin sia stata la prima a trascrivere i dati Quasi cinquant'anni fa Score Hiddelgard della famiglia Goldrich di Ravensburg Piuttosto benestante Ma che si è diventata la priora dopo madre Katarin Questa è già Ah no è quello che abbiamo letto adesso, si è giusto Il Degardis, il Degardis No questo è madre di Degardis Questa è sorella Cecilia No, suor Cecilia Aldate Oh sarebbe madre Cecilia Sì, non è aggiornato chiaramente Un momento, appartiene ai Welser Una delle famiglie più potenti di Augusta Augusta, Augustin Sant'Agostino di Ippona Fu un filosofo e teologo Nonché vescovo di Ippona No, qui hanno fatto qualche pasticcio Anzi là c'è scritto Augusta Però vabbè, Augustin Ma qua Sant'Agostino Cosa c'entra Sant'Agostino Cioè, intendo dire che il nome Augusta deriva da Sant'Agostino Ma non so, non capisco Quanto pare i suoi genitori allargiscono l'autodonazione a Chersao ogni anno La mia famiglia non riuscirebbe ad accumulare somme simili nemmeno in dieci anni di lavoro Chersao è il nome del monastero, no? Della Abbazia, qui com'è? Suor Gertrude di Hoff Ah sì, l'erborista Suo padre è un farmacista Questo spiega tutto Matilda Oblata La cantiniere delle suore Viene da Campton Una famiglia di commercianti Hanno donato i pigmenti da utilizzare nello scriptorium Molto premurosi Dovrò ringraziarli se mai ne avrò la possibilità Eh, come fai a ringraziare? Eh, ho letto un libro proibito Questa notte dice che suor Matilda La sciolabazia per diversi mesi Eccola Suor Matilda Però non è qua forse Non ci possiamo parlare Perché sarebbe dovuto andare in un eremo? Sembra strano che la sua sia l'unica voce Con una nota del genere Le date indicano che è successo tre anni fa Poco prima che padre Mattias morisse Il che significa che era più o meno il periodo In cui il barone Rothvogel giunse in visita Deve essere lei Matilda È la suora che il barone ha aggredito Durante la sua ultima visita A parte che non sappiamo se è stata aggredita Vorrei parlare di nuovo con madre Cecilia E forse anche con suor Matilda Se riusciamo a farlo Questo è ancora niente For Sofia Sofia di Birgiz La sua famiglia è povera Ma ha donato della farina Dai Lisbeth o Blata Viene da Utrecht Utrecht Sembra che abbia avuto una visita Movimentata Prima di venire qui Aveva marito e un figlio Entrambi morti La sua famiglia di mercanti Ha qualche legame con Kessau Attraverso i Kaufmann Di Rothenburg Ob der Tauberbo Ma questo Oblata Cosa vuol dire Non è un cognome Oblata For Margaret Oh la ragazza cieca Che assiste a Gertrude Esatto Margaret è quella là E quella di più cicciottella È Gertrude È diventata cieca A causa di un intervento Chirurgico Alla catarrata Andato a male Ricca famiglia contadina Ha donato lana E un pascolo a Krimle Forzdena Che è quella che ci ha Cazziato Questo dovrebbe essere interessante Figlia dei Rosenberg Di Tabor Sono estremamente influenti In Bohemia Donano una fortuna All'abbazia C'è da stopirsi Che madre Cecilia E la battle Le permettono di fare Quello che vuole Appunto Mi domando anch'io Come la curavo Una catarrata In quel tempo Pugnale Di 10 centimetri Caldo Caldo a fuoco Riscaldato col fuoco Parla con Cecilia Matilda Mi pensavo di fare Chissà che erano scoperte Ma In realtà abbiamo fatto Solo Abbiamo solo scoperto Per Matilda Però più letteralmente Parla con Matilda Ci speravo Di qualcosa Di più misterioso Magari in un altro tempo Non so Aspetta Aha Vabbè il nostro San diavolo Dei gusti Bus In tutti i sensi Possibile Perché Non è che Matilda Sia Guarda Salirò per le scale Non potranno raggiungermi Parlerò con loro Possiamo risolvere tutto Troveremo un accordo Va bene Devo solo aspettare Che Rudiger E Mattia Se ne vadano Un po' di pazienza Adesso come faccio Vediamo cosa dice qua Allora Beatrice dice Aspetterò Che finiscono Poi me ne andrò Non ci vorranno Ok Dovresti parlare con loro Appartamento In buona fede Socrate Sono uomini ragionevoli Scappa via Bo Dobbiamo aspettare È uscito un suono Non voglio addumentarmi Su questo pavimento freddo Ad ogni modo Non dovrei stare Mene seduto Qui a guardare Se non riesco a uscire Di qui Prima che le sole Le arrivino al mattino Potrebbe essere Di tura peggio Giusto Potrebbero non essere terribili Se Sdena Mi trovasse Prima delle altre Forse siamo amici Mentre c'è il suono Il suono illuminato Non lo troverò Affatto divertente Ma Sdena In realtà Aspetta Magari mi confondo Tra i due Illuminata E Sdena Quella che ci ha parlato Insieme Per un po' Di tempo No Sì Matteo dice Tanto non possono Incolparti O farti Problemi Perché Sennò Tu puoi dire Quello che stavano Facendo Prendiamo questo Un attimo Con lei Non si sa mai Però Allora Salirò le scale Però Con loro Va bene Devo sospettare Un po' Sarà pure Una cosa veloce No Cioè Voglio dire Cos'è Stanno tutta la notte Cosa facciamo Quello del salire Le scale Boh O questo O questo Aspettiamo Troveremo un accordo Oppure li possiamo Ricattare Magari In qualche modo Che dice Quasi quasi Sarei tentato Di vedere Cosa succede Facciamo questo Anche tu sei curioso Infatti Proviamolo Dai davvero Proviamo Vediamo Oh salve Buona serata Cosa Che ci fai qui Andrea Un attimo Cosa dice Questa è una situazione Veramente delicata Ce lo sta Ce lo sta Dicendo Sono comprensibilmente Preoccupati Se si sapesse in giro De loro Incontro segreto Potrebbero essere Potrebbero essere Potrebbero essere Potrebbero essere Potrebbero essere espulsi Da Chersau O Pezzo Io dico Io dico So che non è stato fratello Piero, il responsabile deve essere qualcun altro dell'abbazia o della città. Sapete che Piero è un bravo uomo, è un monaco devoto, non posso lasciarlo morire. Non posso credere che fratello Piero possa avere ucciso. Mi dispiace, è davvero scioccante. Prego che Dio abbia misericordia di Piero e porti alla luce il vero colpevole. Sono contento che state facendo tutto il possibile per aiutarlo. È difficile per il resto di noi agire, considerando l'opinione dell'abate. Andreas, come pensate che nascondevi in biblioteca vi aiuterà a dimostrare l'innocenza di fratello Piero? Non siamo nascosti. Idiota. Non ne sono sicuro, sapete perché suor Matilda fu trasferita in un eramo? Che nascondevi in biblioteca? Ma che 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 che? Eh, sì, ricordo che si assentò per un periodo. Un giorno se ne andò all'improvviso. Non so perché. Normalmente non mi occupo degli affari di madre Cecilia. Non ho mai parlato con lei, ma... Vodzislav... Vodzislav era... Quello lì. Mi ha detto che fu trasferita in un erimo per motivi di salute. Dovranno parlare con lui? Rudeger. Vodzislav sa dove è stata Matilda. Sono entrambi cantinieri e siric... Cantinieri? Ok. Quelli che si occupano delle scorte alimentari. Mantenimento dei terreni. Cioè, tutte e due le cose. Scorte alimentari e anche... Puntadini, boh. Sono entrambi... Eh? Si riconoscono spesso in città per conto dell'abazia. Proprio come voi avete più contatti con suore illuminata di me. Fratello Vodzislav ha più contatti con sorella Matilda. Proprio come voi avete più contatti con suore illuminata di me. Fratello Vodzislav ha più contatti con sorella Matilda. Vabbè, ho letto un po' male. A volte mi sbaglio a dare il senso delle cose. Della lettura. In ogni caso vi auguro buona fortuna di mostrare l'innocenza di Fratello Piero. Confido che non racconterete in giro tutto questo. Basta che anche voi facciate lo stesso con tutto questo cosa, no? Naturalmente. Non dirò nulla agli altri. Dovremmo andare. Buonanotte, Andreas. Poi magari, voglio dire, c'è qualche cosa... C'è qualche pregio che non sappiamo. Mattias, dico. Ancora notte. Andr... Buongiorno. Ma non è mattina. È notte fonda, Ursula. Ci sta dando l'opportunità di seguire... Un fortunato. Cosa ci fai quassù? Capisco. Capisco che non capisco. Vuoi che ti racconti una storia? Ti aiuterebbe a dormire? C'era una volta una bambina più o meno della tua età che venne venduta insieme a un cesto di arance. Questo verrà ricordato. Fa paura, però. Un uovo doveva... Per una bambina, dico. Un uomo doveva pagare l'affitto al re ogni anno. Il costo era quattro cesti di arance. Siamo in Italia, ovviamente. Tu non sai nemmeno cosa sia un'aranza. Per ogni modo, la giovane figlia di quell'uomo aveva i capelli dello stesso colore dei tuoi. Come un'aranza. L'uomo non aveva abbastanza arance per pagare l'affitto. Così nel quarto cesto infilò a sua figlia. Coprì di arance e mandò i cesti al re. Se dovevi fare volume, potevi mettere qualsiasi altra cosa. Anzi, mettevi un po' di sassi, magari. Come fa a dormire con quella finestra aperta, in effetti. E loro non hanno le vetrate, vedi, infatti. Sono una specie di... Come si chiama? Di sbarre, in realtà fatte di legno. Quando i serbi e il re trovarono la bambina, il re disse loro di crescerla come una serva. La chiamarono Arancetta, come una piccola arancia. Non conosci l'italiano, quindi ti dirò nulla. Non ti dirà nulla, ma è un nome molto carino. Ad ogni modo, mentre la ragazza cresceva, il figlio è re, il principe, e si innamorò di lei. Le altre serve erano invidiose, allora le affidarono tre impo... Tre imposizioni? Comunque vissero felici e contenti. Questa è una bambina che probabilmente non sa ancora parlare. Adesso? Torniamo a letto? Eh, ok, torniamo a letto. Mangia? Devo trovare qualcuno con cui mangiare, addirittura mangia. Un attimo l'oro. Ben trovato, Andreas. Salve Clara, ho una cosa per te. Finalmente gli diamo l'affitto. Allora bastare per pagare il mio affitto e le tasse che dovete alla bazzia. Andreas, questo è molto più dell'affitto, non possiamo accettare. Ti prego Clara, al minimo che posso fare. Tu e Peter mi avete accolto con grande cortesia. Allora considera il resto un regalo oltre al mio affitto. Insisto, bastano per ripagare la bata, no? Dai, siamo gentili. Andreas, dove hai trovato tutto questo denaro? Sei sicuro di averne abbastanza per te. Preoccuparti per me? Clara, me la caverò. Ho convinto fratello Mattia a pagarmi un po' in anticipo. Volevo essere sicuro che voi poteste pagare le tasse in tempo. Dio ti benedica mille volte, Andreas. Non sai quanto questo significhi per noi. Ovviamente è meglio non farne parola. Perché? Perché, boh, questo? Naturalmente, non ne farò parola con nessuno. Comunque grazie. Boh, per quale motivo? Ti lascio ai tuoi impegni che Dio ti benedica. A più tardi. Andrea, se lo chiedi, se ti va di mangiare con noi? Ehm, no, guardiamo. Ecco, ci mette in casini adesso. Perché non sappiamo con chi altro. Però, diciamo stare. Non mi sembra il caso. A meno che non vogliamo provarci con la tipa là. Forse un'altra volta, Clara. Naturalmente, stami bene, Andreas. Però magari forse possiamo... Il pagamento è completo, ok. Vediamo qui, Eva. Salve, Andreas. Buongiorno. Spero che la giornata proceda bene. Abbastanza bene anche se c'è troppo da fare e poco tempo per fare tutto. Tempesta ha accumulato un disastro in città. Ci sono delle perdite nel tetto della casa e poi c'è tutta quella lana, signore. Lana. Le piccole sono prossime al parto. Quindi le abbiamo tosate la settimana scorsa. Mi sembra di aver passato anni a lavare lana. Hai mai sentito l'odore della lama bagnata? È sporca, Andreas. Bleh, non c'è niente di peggio. Ora che è pulita abbiamo... Dobbiamo affilarla. E per farla ci farà moltissimo tempo. Signora, non so dove la troverò. Dove lo troverò. Clara, non ti aiuta? Certamente. A volte mi dimentico che sei di Norimberga, Andreas. Clara. Cos'è? Eddie? Veronica, Kat. Saranno tutte una mano. Ci sarà anche la piccola Ursula, anche se combina più guai che altro. Meno lavoro, procede rapidamente quando si lavora insieme. E poi la conversazione fa scorrere il tempo più in fretta. A volte riceviamo persino delle visite. Potrei venire a trovarvi anch'io. Se venissi a trovarvi anch'io, che è già nelle visite. Che è già nelle visite. A volte gli uomini della città passano a salutarci. Peter, Jorg e forse anche Otto. Otto, quella vecchia volpe. Non sapevo che gli uomini fossero invitati. Posso venire anch'io? Lo proviamo a chiedirlo. Benvenuto. Sono sicuro che anche le altre gradirebbero la tua compagnia. Joan Bauer sarà lì a controllarci. Finché resti fuori, non vedo che male potrebbe fare una tua visita. Ci penserò, dai. Saranno tutti felici di vederti parlare con la gente comune. Soprattutto Eddie. Di me che tu finisca per montarti la testa. Ma chi è che sta, Eddie? Non la ricordo. Forse è una piuttosto severa. Ci incontriamo a casa di Joan Bauer. Vieni al mattino o al pomeriggio e parla con Joan. Devo tornare al lavoro? È stato un piacere incontrarti. Ho il piacere tutto mio, dai. Il solito adulatore. Abbasso la voce. Ma che se ne frega? È Otto, no? Che ci prova con lei. Quindi. È la zia di Martin. Quella delle pecore. Sì, sì, appunto. Mi ricordavo che comunque era una burbera, no? A parte che anche l'altro non scherzo. Invito la Finlanda. Ehi, Andrea. Sei salutato le ragazze oggi? E vai, Clara? Mettendo le galline. Pietro, Giacomo e Giovanni. E ragazze? Sono contenta quando gli accarezzi la schiena. E gli dai una bella grattatina sul petto. Hai chiamato le tue galline come gli apostoli? Proprio non ce l'hai fatta a pensare a qualcosa di femminile. Tipo i nomi di qualche bella ragazza che conosci. Tutte le belle ragazze che conosco sono sposate. Non mi sembrava corretto dare a una gallina il nome della moglie di un altro uomo. Sento parlare degli apostoli ogni domenica messa furono testimoni dei momenti più gloriosi della vita di Gesù e delle sue prove più impegnative. E pensavo, è così che funziona tra me e le mie ragazze. Loro vedono tutto quello che faccio. Non fa una grenza. Tu e Cristo avete un sacco di cose in comune. Lascia che ti dia un consiglio e non dirlo a nessun altro, soprattutto al padre. Va bene, ho capito. D'ora in poi le chiamerò semplicemente ragazze. Non mi pare che nella tua famiglia mangiate molte uova. Cosa ne fate? Ah, le vendiamo ai Bauer. Clara dice che quei soldi in più ci saranno per pagare le tasse. Comunque è ora che mi rimetta l'opera. A presto. Questo Peter ha qualcosa da dire? Programmi per pranzo. Se acclarano, dispiace vorrei... Ok, magari un'altra volta. Saltiamolo. Quando vuoi. Allora, adesso guardiamo un'altra cosa. Aspetta questo. Dio vi viene a dica. Allora, riguardiamo la mappa un attimo. Possiamo andare anche, più o meno, sempre alle stesse persone. Diario. Il baron e la monaca. No, una nota sul suor Martilda. Riportava la sua permanenza in un eremo per diversi mesi. Dovrei chiedere spiegazioni a madre Sicilia o al suor Martilda direttamente. Allora, mi ha ringraziato il cuore per il denaro. Questo dovrebbe contribuire a levare i problemi economici dei Gertner. Ehm. C'è sempre lì dove c'è il coso, magari, no? Dove c'è il... Oppure il repertorio, probabilmente, intende. Allora, la vedova, magari, possiamo fare poi quello che ci ha chiesto, no? Invece andiamo su in cima. Allora, l'arrivatrice, a vedere se possiamo spiare. Andiamo lì un attimo. Oppure c'è la chiesa. Famiglio di Jonathan e degli alveari per ricavarne mele e cera. Hans. Salve, Andreas. Come va Hans? Ti dai affare nei campi? Eh, sì. Mi piace? Che cosa? È un'agricoltura. Non ci ho mai pensato. Papà dice che bisogna farlo, che mi piaccia o no. Allora, a cosa pensi? Zio Franz. Franz ha detto che forse Brigitta verrà ad aiutare con il bucato oggi. Brigitta. E chi è? È la moglie di Martin, giusto? Ah! È la moglie di quello che stiamo cercando. Sì, almeno più di Veronica. Beh, non sembra brutta neanche Veronica. Vorrei che Brigitta vivesse qui al posto suo. È sua sorella come minimo, immagini. E non la vuole. Beh, divertiti a pensare alla moglie di tuo cugino. Che cosa? Non l'ha capito. È più tardi, ass. Arrivederci. È troppo piccolo. Eh, eccola qua. Ti. Ehi, Andrea, hai programmi per il pranzo? Perché non mangi con noi? Magari un'altra volta. Se lo dici tu. Proviamo a riparlarci un attimo. E Andrea, hai programmi? Vedi? Ok, possiamo. In realtà possiamo... Richiederglielo. Ovviamente quindi anche all'altra. Io dicevo, ne ho un secondo. Eh, da qui non si può. Non fare il giro di qua. Ah no. Pensavo che volesse guardare la legna invece. Qui non c'è nessuno. Qui ancora qua. Che cosa vuoi? Non siate così scontroso. Immagina che un uomo Stia cercando di farti giustiziare Per un crimine che non ha commesso. Chiederesti come va la sua giornata? Le buone maniere non vanno certo dimenticate Solo perché stiamo avendo una piccola discussione. Dimmi cosa vuoi e basta. Mi chiedo se fosse possibile mangiare con te Agnes. Non abbiamo mai condiviso un pasto. Fortunato sembra. Oh santo cielo, qua c'è un bug. E ho beccato un bug. Adesso? Resta così. No, santo cielo. Cosa facciamo? No. Non riuscite a beccare un bug. Cosa vuoi? Facciamo in fretta. Ok, forse riusciamo a parlarsi. Magari un'altra volta. No, resta così. Ora provo un attimo. Cinque secondi fa, vediamo un secondo. Che tratto è istantaneo. Ok, sistemato. No, è che io temevo che fosse in modalità conversazione, no? Cioè, nella modalità della selezione del che cosa fare, no? E invece c'è andata bene. Dici che vale la pena di provare a parlare con lui? Matteo, cosa dici? Oppure potremmo andare al repertorio e boh, assaggiare il terreno. Ma non so cosa... Cosa cambi? Tu cosa faresti? Dovevi parlare con lui per scoprire con cui stava... Perché stava litigando con il barone. Questo appunto bisognava dargli una mano. Non so... Ma questo qua Ah non ci possiamo parlare Prima di entrare non siamo ancora entrati Mi sembra Forse si Fai fare la prova No qui di scuro non si può salire Ok infatti non sale Gret Andreas che piacere vederti Sei una gioia per gli occhi come sempre Fortunato per la mia segale Cara Gret Sai che non posso resistere a tua segale E non è di intorno Io ho pensato di passare a un saluto Ora però devo congedarmi Sei proprio un brav'uomo Beh sei sempre benvenuto qui Andreas E puoi vedere la mia segale ogni volta che lo desideri Stammi bene Più tardi Gret Matteo hai deciso qualcosa o no? Questo Ulrich Hai già programmi per pranzo A Gret farebbe piacere averti a tavola con noi Magari poi parlando con questi qua Comunque scopriamo dei pete golezzi Forse Un'altra volta ci penso Però in questo momento abbiamo delle urgenze Quindi in teoria è meglio parlare con Un tipo questi insomma Non so Non so Baselbroker Centro città E torniamo sostanzialmente qua Un'altra volta ci penso